spero godermi la giornata su bambini andiamo tena pens più asciutta più sicura di te una cinza dovrà restare per un mese cuciono molti zatti o chiama il numero dentro ma e dice qua interverrà RS la tripletta lo sai che non scendiamo pezzi singoli vediamo un ciao ciao come si fa per sembrare se nei guai guai cosa vuole il balacross niente mi ha parlato di una su bambini non scendiamo pezzi singoli su bambini su bambini mi ha parlato di una su bambini non scendiamo pezzi singoli